71,90% e questa è la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel mese di giugno nel comune di San Cataldo. Rimane dunque positivo il trend nella cittadina per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti differenziati che avviene attraverso il porta a porta. Un risultato soddisfacente annunciato dal primo cittadino sancataldese anche attraverso i social e che però non distoglie l'attenzione dagli obiettivi futuri, e cioè quello di migliorare i servizi e anche una diminuzione dei costi a carico del cittadino e dunque delle tariffe. E' sicuramente un obiettivo raggiunto per questa città ed è merito di tutta la cittadinanza di tutti i sancataldesi. Dobbiamo continuare in questo modo per far sì che dai prossimi anni riusciamo ad intervenire anche sul costo del servizio. Siamo sempre al lavoro per diminuirlo il costo del servizio, ma è evidente che più alte percentuali di differenziata significheranno per i prossimi anni una diminuzione del costo. Questo è evidente che anche nei confronti dei trasgressori, di coloro che abbandonano dei rifiuti, il Comune sta continuando a multare, a perseguire questi atteggiamenti.